Eccoci qua, buonasera. Il telegiornale partirà questa sera dall'accordo che a quanto pare è stato raggiunto in sede europea, si dice in questi casi tra le tre grandi famiglie politiche, quelle tradizionali, i popolari, i liberali e i socialisti, per l'assegnazione delle cariche che contano. Ursula von der Leyen sarebbe confermata alla guida della Commissione europea, il portoghese Costa, che è socialista, sarebbe il nuovo presidente del Consiglio europeo, l'attuale premier Estone, Callas, sarà la nuova alta rappresentante per gli affari internazionali, insomma la super ministra degli esteri dell'Unione europea e Roberta Mezzola verrebbe riconfermata, sarà riconfermata alla guida dell'Europarlamento. Questo è l'accordo sui cosiddetti top jobs, ma ovviamente bisognerà vedere se tutto sarà confermato nel vertice di giovedì e venerdì a Bruxelles dei capi di Stato e di governo, in cui si dice, l'attere del quale ci sarà una trattativa diretta tra von der Leyen e Meloni per coinvolgere sia il governo italiano sia soprattutto in prospettiva del voto, perché il presidente della Commissione europea deve essere votato all'Europarlamento per ottenere nel segreto dell'urna, ma anche esplicitamente, i voti del partito conservatore europeo di cui Meloni è leader. La questione è sempre la stessa, anche cinque anni fa il rischio grosso von der Leyen ottenne i voti necessari grazie a quella che non a caso fu definita la maggioranza Ursula, che coinvolse anche forse che non erano delle famiglie tradizionali. Ma come vedremo ci sarà anche altro, perché abbiamo parlato di Meloni e come per un sortileggio si ricomincia da quello che doveva essere l'episodio iniziale della campagna elettorale europea, lo scontro, il duello tra Meloni e Schlein. Sono loro due a parlare in questo giorno dopo i ballottaggi, dopo l'ultima battaglia elettorale della stagione, dopo i ballottaggi per i sindaci dei comuni e con le polemiche sull'autonomia differenziata. Meloni attacca le opposizioni, Schlein attacca Meloni, vedremo di che cosa hanno parlato. E poi ci sono i grandi fatti internazionali, la guerra d'Ucraina, ma anche quella di Gaza con Israele sempre più in difficoltà sulla scena internazionale. E poi la notizia che non poteva non essere clamorosa nella notte, è tornato libero ed è tornato in Australia Julian Assange, l'uomo che era considerato, come si sa, il grande oppositore tenuto in prigione in Gran Bretagna, il grande oppositore degli Stati Uniti, colui che aveva contribuito con Wikileaks a rivelare segreti inconfessabili della politica internazionale americana e non soltanto. Vedremo però anche due fatti di cronaca, uno ne abbiamo già parlato ieri, è veramente terribile quello di Pescara, ma un altro a Fano, nelle Marche ancora più terribile, un figlio che uccide i genitori anziani e cerca poi di stogliere le responsabilità. C'è tanto altro perché non si potrà non parlare della nazionale vittoriosa, vincente ma non convincente ancora, che abbiamo visto ieri in Germania. Tra un minuto. Allora buonasera, partiamo da questo accordo europeo per quelle che sono le figure guida nel prossimo quinquennio per l'Unione, per i 27. Ci sarà ancora Ursula von der Leyen e non solo questo. E ci sarà un accordo, c'è un accordo già tra le tre grandi famiglie politiche europee che però potrebbe coinvolgere per quanto riguarda von der Leyen anche i conservatori di Meloni. Ci spiega tutto il nostro finuccio. A meno di 48 ore dal vertice europeo nel quale si doveva, si doveva, discutere ufficialmente delle posizioni apicali dell'UE, Presidente di Commissione, Consiglio Eurocamera e Supercommissario agli esteri, i cinque negoziatori delle famiglie politiche europee, i Premier di Grecia, Polonia, Olanda, Germania, Spagna più Macron, hanno fatto sapere di aver trovato la quadra che era mancata otto giorni fa. Ursula von der Leyen riconfermata al vertice della Commissione, il socialista portoghese Costa, Presidente del Consiglio, la popolare maltese Roberta Mezzola all'Europarlamento, la liberale estona Ekaia Callas, Supercommissario agli esteri. Che cos'è successo di nuovo tale da sbloccare la situazione in un giro di videoconferenze? A quanto si sa, il Partito Popolare ha fatto marcia indietro sulla pretesa che aveva fatto infuriare i socialisti di avere un suo uomo o donna a metà mandato al Consiglio, staffetta senza precedenti. Ma in realtà la fretta è probabilmente dovuta alle imminenti elezioni francesi, dove la destra, ricordiamo, è data per favorita. A Bruxelles non è passata inosservata ieri la richiesta del Premier Inpector del Rassemblement National, Bardella, che in caso di vittoria vuole essere lui a scegliere il commissario europeo, poiché, dice, dovrà essere allineato con il nostro desiderio di difendere un certo numero di interessi francesi. Un vero sgambetto a Macron. In Francia è l'Eliseo che gestisce politica estera ed europea. Vedremo se nel dibattito in corso, proprio mentre vi parliamo su TFN tra Bardella, Attal e Manuel Bonpar del fronte popolare, Bardella tornerà sulla questione. L'accordo, che dopo domani sera dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dai capi di Stato, è dunque frutto di una nuova esclusione di Giorgia Meloni. Ma poiché von der Leyen ha bisogno al Parlamento europeo dei 25 voti di Fratelli d'Italia come cuscinetto per i franchi tiratori, ecco l'escamotage, tipicamente brussellese, che forza la situazione per salvare Capra e Cavoli. Von der Leyen ha fatto sapere che negozierà direttamente con Meloni, ma non in quanto leader dei conservatori europei, ma come premier italiana, per decidere quale sarà il prestigioso portafoglio italiano nella prossima commissione. Insomma, uno scambio all'insegna di una stratta divisione dei ruoli premier italiano e capo dei conservatori, coi quali socialisti e liberali, peraltro, non vogliono avere a che fare. Perfino il filo putiniano-Orban, dal primo luglio presidente di turno dell'UE, nonché amico di Giorgia Meloni, si è stracciato alle vesti. Quest'accordo, scrive su X, va contro tutto ciò su cui si fonda l'UE. Invece dell'inclusione, semina la divisione. Gli altri funzionari dell'UE, dice, dovrebbero rappresentare tutti gli stati membri, non solo la sinistra e i liberali. Questo è quello che sta succedendo. Ma in realtà il dopo-voto europeo è chiaramente segnato dall'avanzata delle destre, dei rischi o l'opportunità, dipende dal punto di vista, riguardanti il voto anticipato francese di domenica prossima. A proposito, ci vediamo domenica prossima per darvi in diretta tutti i risultati. E poi del turno successivo, il ballottaggio la domenica successiva. È una situazione molto tesa e resta tesa anche in Italia. Ieri ci sono stati risultati dei ballottaggi, evidente, che hanno sorriso al centro-sinistra e soprattutto al PD. E oggi si ritorna praticamente al punto di partenza. La campagna elettorale lunghissima per le europee e poi per i comunali era partita con uno scontro virtuale. Non ci fu quello fisico, un confronto televisivo fisico, non ci fu tra Meloni e Schlein. Adesso indirettamente le due tornano a duellare. Io penso che le parole e i modi violenti che usa la sinistra, non solo sull'autonomia, ma su tutte le riforme portate avanti da questo governo, non siano in fondo altro che una difesa disperata dello status quo. Una condizione di privilegio che ha garantito alcuni a scapito della maggioranza degli italiani. Chiusa la lunga campagna elettorale che per me si è concentrato l'attenzione sulle elezioni europee di due settimane fa e che si è conclusa con i ballottaggi di ieri, che hanno premiato la sinistra, la Premier guarda avanti, rilanciando sulle riforme, premierato e autonomia in testa all'agenda di governo, puntando il dito contro l'opposizione. Opposizione che alimenterebbe un clima da guerra civile nel paese. Io dovrei essere appesa a testa in giù, dice ricordando una parlamentare ai 5 Stelle che in aula aveva citato Piazzale Loreto. A risponderle a distanza c'è Elie Schlein che il voto ha incoronato come leader in pectore del campo progressista perché nonostante il duello TV mancato prima delle europee, pensato per polarizzare la scena focalizzando l'attenzione sulle due leader dei maggiori partiti, di maggioranza e opposizione, l'esito delle urne ha dimostrato che il messaggio è stato recepito con il rispettivo successo dei loro partiti, PD e Fratelli d'Italia. Così se oggi Meloni affonda sulle riforme, Schlein l'accusa di non avere altri argomenti e riporta il boccino sul tema del giorno che per lei è l'analisi della vittoria del PD e della coalizione. Abituiamoci a non parlare più di sconfitta, dirà i suoi ironizzando su un vecchio tic della sinistra. Il messaggio per Giorgia Meloni è chiaro, stiamo proprio arrivando, stiamo arrivando. Questo è il dato, anzi ci dà ancora più slancio questa vittoria e noi continueremo testardamente unitari più di prima a lavorare per costruire la coalizione alternativa che batta queste destre e mandi via questo governo. Un botte risposta dove ognuna sceglie il campo di gioco più congeniale. La premier tira in ballo direttamente la Schlein ricordando che prima di lei a sinistra il trisegretario ha non sostenuto il premierato. Sul premierato ci accusano di deriva autoritaria, poi si scopre che lo proponeva anche il PDS di Achille Occhetto circa 30 anni fa. In pratica Achille Occhetto era molto più avanti di Ali Schlein e quindi anche qui vengono smentiti. Schlein lascia cadere e polemizza con il presidente del Senato la Russa, esponente di Fratelli d'Italia che dopo il voto di ieri con un secondo round nel quale la destra fa sempre fatica a riportare i suoi al voto è tornato a mettere in discussione i ballottaggi. Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro che evidentemente hanno dimostrato incapacità di governare bene. Quindi noi non ci stiamo e troviamo assolutamente sconveniente oltre che grave che la seconda carica dello Stato proprio nei primi minuti a caldo di una sconfitta parli di cambiare le regole. Ci abitueremo al botta e risposta continuo tra la maggioranza e la leader dell'opposizione. A livello internazionale ancora in primo piano quella che è la situazione più inquietante per la possibilità sempre più a portata di mano di un allargamento del conflitto. Il conflitto è quello di Gaza, Israele è sempre più in difficoltà sulla scena internazionale e anche il governo Netanyahu ora su quella interna. Inutile scrivere sui muri dei quartieri più ortodosso di Gerusalemme e morire meglio del servizio militare. Con queste due pagine i nuovi giudici della Corte Suprema israeliana, sei uomini e tre donne hanno stabilito che il governo non può più concedere l'esenzione totale dal reclutamento nell'esercito ai giovani studenti ortodossi delle scuole religiose e non può più fornire così sostegno finanziario agli studenti che frequentano le accademie e non prestano servizio militare. Per i giudici vale il principio d'uguaglianza. Non essendo stata approvata una legge, la prima stesura risale al governo di Benny Gantz che fisse i quartieri di arruolamento ed esenzione dall'indossare la divisa tutti hanno gli stessi doveri nei confronti dello Stato e il Ministero della Difesa, che fa partire le chiamate di leva, deve provvedere. Una decisione che riguarderebbe 67.000 giovani in età arruolabile non può essere declinata concretamente in tempi brevi per evidenti problemi logistici e di preparazione generale ma che può disturbare non poco il governo Netanyahu sorretto anche dai due partiti espressione dell'ortodossia religiosa e con Itamar Bengvir e Bezalel Motric religiosi sì, ma sionisti nazionalisti pronti a sfornare altri ricatti. Il Ministro della Difesa, Yav Gallant, due mesi fa aveva già espresso il suo consenso all'arruolamento degli studenti ortodossi senza l'esistenza fisica non c'è esistenza spirituale tutte le componenti del popolo devono dare ora il loro contributo. Lui a Washington, nell'incontro delicatissimo con l'omologo americano Lloyd Austin infocalizzato sulla crisi a nord, il timore dell'escalation dell'apertura di un fronte di guerra vero con gli Hezbollah stiamo lavorando intensamente per raggiungere un accordo ma dobbiamo anche essere pronti ad ogni scenario possibile. E per il peggiore, Israele ha bisogno di tutto l'appoggio militare americano. Biden ha sì rallentato alcune forniture ma ha comunque predisposto un piano di aiuto difensivo nel timore che i sistemi antimissili israeliani non siano sufficienti a intercettare massicci lanci di razzi e droni da parte dei miliziani filo-iraniani. A Gaza il Ministero della Salute controllato da Hamas che ha fissato in 37.658 morti e oltre 86.000 feriti il bilancio della guerra nella striscia dal 7 ottobre. Continuano le operazioni militari e i messaggi unilaterali da parte di Israele che prevedono a presto un piano per il giorno dopo che inizierà nel nord di Gaza. Oggi Ismail Anie, capo politico di Hamas a Doha, 10 suoi parenti uccisi, lancia un nuovo monito. Israele si illude se pensa che colpire i miei parenti possa cambiare la mia posizione. Tutto sembra fermo dunque nella trattativa mentre gli aiuti umanitari continuano a piovere così dal cielo. Poi c'è l'altra guerra e sull'altra guerra c'è anche qualcosa che perfino ci riguarda perché rispondendo a quelle che sono state delle azioni simili da parte occidentale la Russia ha annunciato di aver oscurato 81 mezzi di comunicazione ovviamente a emissioni o ciò che c'è sul web di 81 testate europee. Tra queste ce ne sono alcune italiane, le testate della RAI ma anche la Sette e giornali come La Stampa e Repubblica. Prendiamo atto tutti quanti di questo, non è la cosa più grave che sta succedendo in questa guerra. Anzi, vediamo. Il passo è formale, la valenza ufficiale. Da oggi inizia il percorso per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. L'intenzione era stata annunciata esattamente due anni fa, nel giugno del 22. Oggi, con una del tutto inusuale rapidità, si è arrivate all'apertura della conferenza intergovernativa che, se tutto andrà bene, porterà fra un altro paio d'anni all'ingresso ufficiale di Kiev nell'Unione. Una decisione frutto di un accordo preciso fra i 27, criticata tuttavia dall'Ungheria che non ritiene l'Ucraina ancora in grado di soddisfare tutti i parametri richiesti a chi entra in Europa. Perché, se è vero che c'è stata un'attenzione particolare e che, come ha fatto notare la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, la resistenza ucraina è vista come una sorta di difesa dell'Europa, sia fisica che valoriale, ecco, se tutto questo è vero, è però anche vero che a Kiev sarà chiesto, come agli altri stati, di fare riforma in senso democratico, di controllare i propri bilanci, insomma, di comportarsi né più né meno come un qualsiasi altro Stato. Poi, appunto, se tutto andrà bene, fra uno o due anni l'Ucraina potrà considerarsi a tutti gli effetti membro dell'Unione. E così ecco la soddisfazione del presidente Zelensky. Un'Ucraina forte non è possibile senza l'Unione, e un'Unione forte non è possibile senza l'Ucraina, ha detto. Mentre incassava anche la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per le violazioni commesse dalla Russia in Crimea dopo l'annessione del 2014 e, soprattutto, il mandato d'arresto spiccato, questa volta dai giudici della Corte penale internazionale, contro l'ex ministro della difesa, Sergei Shoigu, e il suo vice, nonché capo di Stato maggiore, Valery Grasimov. Colpirono apposta e intenzionalmente obiettivi civili, ritengono i giudici, quando diedero l'ordine di distruggere le infrastrutture elettriche ucraine nel 23. Per tutta risposta, Mosca oggi ha messo al bando ben 81 siti di altrettanti media europei, spagnoli, francesi, italiani. Vi avevamo avvisato, hanno detto dal ministero degli esteri russo. Voi avevate escluso dai vostri canali Ria Novosti, Svescia, Voice of Europe. Non potevamo non reagire. Andiamo a vedere adesso però qualcosa che riguarda il mondo intero, ma riguarda l'Italia, perché il tema è quello dei migranti. La vicenda ancora è quella che evidenziamo la scorsa settimana, la terribile uccisione per le modalità, anche la morte di quel lavoratore, di quel bracciante Sikh indiano nelle campagne dell'agropontino. Oggi per la prima volta vediamo la manifestazione dei suoi connazionali a Latina. Di nuovo tutti a Latina, i braccianti dell'agropontino, oggi supportati da Cisle e Will, che chiedono di superare i decreti flussi e la bossi fini, di favorire l'emersione degli immigrati, di dire basta alle cooperative senza terra, di introdurre la decontribuzione per le imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità, di coinvolgere gli enti bilaterali nel reperimento della manodopera, di utilizzare le tecnologie delle forze dell'ordine per incrociare i dati e chiedono di rendicontare i soldi del PNRR stanziati per i braccianti. Satnam non è morto per un incidente sul lavoro, è stato ucciso dalla brutalità di un sistema, accusa il segretario generale della Fai Cisle, Onofrio Rota, Quei momenti terrificanti li racconta un compagno di lavoro del ragazzo, eravamo io, lui, la moglie e un'altra donna italiana, all'improvviso Satnam ha cominciato a urlare, il padrone dell'azienda è sceso dal trattore bestemmiando e dicendoci di stare zitti, io pregavo di chiamare l'ambulanza, ma lui invece ha preso il furgone e ha caricato Satnam, il braccio, la moglie, credevo che sarebbe corso in ospedale, invece li ha portati a casa loro, da quel giorno non dormo più, lavoravo lì da un anno e mezzo per 5,50 euro l'ora, sono irregolare, non so cosa fare, in questi giorni nessuno fa lavorare più chi è senza documenti. Gli accertamenti di procure e carabinieri di Latina vanno avanti con una novità riferita al passato, ieri ai 15 indagati dell'inchiesta cominciata a fine 2019, tra loro anche Renzo Lovato, titolare della ditta della tragedia, è stato notificato per la seconda volta l'avviso di conclusione delle indagini, il medesimo atto notificato a luglio 2023. Alcuni degli indagati chiederanno di essere interrogati, dunque calcolando la sospensione dei termini in periodo feriale, il fascicolo non arriverà al GUP prima di fine settembre. La linea difensiva è già tracciata, gli imprenditori si dichiareranno vittime, ogni colpa scaricata sui due caporali, Sabul Calam e Polattam, cinquantenni del Bangladesh che gestivano abilmente il traffico di mano d'opera. I nostri braccianti si chiamano tutti i Singh, quasi non li conosciamo né li distinguiamo tra loro, diranno gli indagati. Dovevamo sottostare alle indicazioni e alle modalità dei caporali, prendere in azienda solo quelli che dicevano loro, quasi tutti i clandestini. Quando per un qualsiasi motivo litigavamo con i caporali, si vendicavano non portando più gli indiani a lavorare. Nessuno irrigava i campi, nessuno raccoglieva le zucchine, frutta e verdura marcivano e noi eravamo obbligati a chiedere scusa e riprendevamo a fare quello che volevano loro. Un altro lavoratore è morto in Veneto, all'ospedale di Mestre, dopo essere caduto nello stabilimento Fincantieri di Marghera. era un lavoratore bengalese, avevamo accennato alla presenza nel nord-est di tanti esponenti di una comunità del Bangladesh chiamati a lavorare proprio per Fincantieri. Ma c'è un'altra azienda che è simbolo del lavoro in Italia e dei rischi del lavoro. Sta a sud, si chiamava Ilva, è a Taranto e oggi c'è una sentenza che rimette in discussione tutto. Suscita reazioni opposte la sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia europea che stabilisce che a prevalere deve essere sempre comunque il diritto alla salute e il rispetto dell'ambiente quando si parla di emissioni degli impianti industriali, in questo caso quello dell'ex Ilva di Taranto. Il giudice europeo ha stabilito che l'attività dell'impianto deve essere sospesa in presenza di gravi pericoli per la salute e l'ambiente. Sentenza epocale, dice il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non solo per la comunità di Taranto ma per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Al contrario, secondo Acciaierie d'Italia, proprietaria dell'impianto, non c'è nessun pericolo di chiusura, poiché la sentenza fa riferimento a fatti risalenti al 2013, oggi ampiamente superati, grazie agli ingenti investimenti effettuati per il risanamento ambientale, in particolare la copertura dei parchi minerari, opera unica in Europa. Tutto nasce dal ricorso al Tribunale di Milano dell'Associazione Genitori Tarantini contro Ilva, Acciaierie d'Italia, Acciaierie d'Italia Holding. Chiedevano al giudice della sezione delle imprese di chiudere l'impianto per tutelare il loro diritto alla salute che l'attività industriale per decenni ha messo a repentaglio perché non rispettava i requisiti sulle emissioni ambientali. Il Tribunale di Milano si è così rivolto alla Corte di Giustizia Europea per chiedere se la normativa italiana fosse in contrasto con la direttiva comunitaria. La risposta oggi è arrivata con tre no secchi. Non si può escludere la valutazione del danno sanitario dell'autorizzazione ambientale integrata, l'AIA. Devono essere valutate e inserite anche diverse sostanze inquinanti nel novero di quelle nocive prodotte da un impianto industriale. E terzo, non è possibile continuare a prorogare il di anno in anno l'attuazione della direttiva del 2010 come è accaduto a Taranto. Adesso la palla torna al Tribunale di Milano. La decisione se disapplicare o meno la direttiva europea e quindi decidere per la chiusura dell'acciaieria di Taranto potrebbe arrivare il prossimo anno. Andiamo alla cronaca italiana. Ieri quell'episodio che vi abbiamo raccontato terribile a Pescara. Il giorno dopo se ne sa qualcosa di più e non è che purtroppo lo scenario sia meno terribile. Bisogna immaginare di essere lì in quel parco di Pescara per capire esattamente perché gli inquirenti abbiano parlato di una totale assenza di empatia emotiva e di un estremo disvalore delle azioni commesse da parte degli indagati. Sono due ragazzini di appena 16 anni che vogliono dare una lezione a un loro cotaneo, Thomas. Un padre mai conosciuto, lasciato dalla madre alla nonna quando aveva tre anni, appassionato di calcio, da qualche mese era in una comunità da cui era già fuggito qualche volta in pena alternativa al carcere per una storia di piccolo spaccio. Da loro Thomas aveva comprato qualche dose di hashish e poi non li aveva pagati. E così questi due sedicenni, famiglie benestanti alle spalle, uno è figlio di un maresciallo, l'altro di un'avvocata, domenica pomeriggio si incontrano con i loro amici, 4 o 5 persone. Mangiano sushi, poi chiamano Thomas e gli danno appuntamento in un parco al centro di Pescara. Uno dei due fermati dice agli altri è una questione di rispetto, gli devo dare due schiaffi. Ormai è buio, hanno già un coltello e una pistola scarica in tasca. Quando Thomas arriva lo spingono verso le sterpaglie, uno dei due mostra la pistola agli altri e fa un sorriso, mentre l'altro tira fuori il coltello e inizia a colpirlo. Thomas è piccolo, mingerlino, cade a terra, 10 coltellati in tutto. Poi arriva l'altro, prende lui il coltello e lo ferisce ancora mentre Thomas si raggommitola su un fianco. Prova a gridare qualcosa ma gli dicono di stare zitto. Gli altri guardano qualcuno sbigottito ma nessuno fa nulla per fermarli. Dopo pochi minuti vanno tutti via, lasciandolo lì a terra, forse ancora vivo. Vanno in un vicino stabilimento e si fanno il bagno al mare. I due ragazzini prendono il coltello e lo avvolgono in un calzino e lo gettano tra gli scogli. Agli altri dicono nessuno deve dire niente, questa storia deve rimanere tra di noi. Ma uno dei loro amici che ha assistito all'omicidio quando torna a casa racconta tutto al fratello e poi al padre un alto ufficiale dei Carabinieri che immediatamente chiama i soccorsi. Ma per Thomas non c'è più nulla da fare. Il testimone ha anche raccontato sembravano fuori di testa, lo hanno insultato, gli hanno sferrato calci, gli hanno sputato mentre lui si lamentava. Totale assenza di empatia emotiva, appunto. E c'è un'altra storia che tocca raccontare, è avvenuta nelle Marche, Fano. Ha ucciso in casa i genitori e lo ha fatto perché avevano detto no all'ennesima richiesta di denaro. Poi è tornato a dormire al piano di sopra della villetta alla periferia di Fano. Al mattino ha accompagnato il figlio a un corso di recupero e ha lanciato l'allarme dicendo alla polizia che i genitori non rispondevano e la porta era chiusa dall'interno. Luca Ricci, 50 anni, dopo 16 ore di interrogatorio, è crollato. Nel commissariato di Fano ha confessato il duplice omicidio al procuratore e ai funzionari della squadra mobile. Ricci ha anche fornito i dettagli di quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Secondo il suo racconto, intorno alle due di notte la madre, Luisa Marconi, 70 anni, lo avrebbe chiamato perché non si sentiva bene. Lui è sceso in casa dei genitori e le ha misurato la pressione. È nata però una discussione dove sono riemersi vecchi dissapori e dove il figlio avrebbe ricevuto un secco rifiuto a una nuova richiesta di denaro. Già in passato i genitori si erano indebitati per poter dare al figlio i soldi necessari ed aprire un'attività artigianale andata male ed avevano così perso la casa, pignorata e venduta all'asta. Al no della madre, Luca Ricci avrebbe preso un accordo a un filo elettrico e strangolato la donna in cucina. Poi avrebbe ucciso il padre che dormiva in camera da letto colpendolo in testa con un martello preso nella cassetta degli attrezzi. A quel punto sarebbe tornato a dormire a casa sua dove si trovava il figlio di 18 anni che non si sarebbe accorto di nulla. La mattina dopo l'ha chiamata alla polizia il racconto a cui gli investigatori da subito non hanno creduto. Dopo la confessione l'uomo è stato portato nel carcere di Pesaro in stato di fermo con l'accusa di duplice omicidio aggravato dalla crudeltà e dal rapporto di parentela. Questa notte c'è stato il fatto clamoroso che pone fine alla lunga peregrinazione attraverso luoghi in cui non poteva essere catturato e poi nel carcere in Gran Bretagna di Julian Assange l'uomo che come si sa è considerato la bestia nera per le riveliazioni che fece con Wikileaks riguardo alla politica internazionale e non soltanto dati e notizie inconfessabili per gli Stati Uniti. Assange ha patteggiato in qualche modo attraverso i suoi legali ed è tornato libero ed è tornato in Australia. La svolta era nell'aria da mesi i continui rimandi della Corte di Londra facevano pensare che delle trattative erano in corso. Oggi la conferma dopo quasi 2000 giorni di carcere Julian Assange è un uomo libero. Partito dall'aeroporto di Londra questa mattina farà ritorno nella sua Australia non prima però di una tappa alle isole Marianne territorio autonomo degli Stati Uniti e qui che il fondatore di Wikileaks certificherà davanti a un giudice il patteggiamento raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano si dichiarerà colpevole dell'accusa meno grave fra i vari capi di imputazione quello di cospirazione per ottenere e diffondere illegalmente informazioni riservate sulla difesa nazionale una pena che prevede circa 5 anni di reclusione quelli che Assange ha già scontato nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh che varranno quindi in maniera retroattiva cade invece il capo di imputazione più grave ovvero quello di spionaggio Assange non esce completamente innocente da questa vicenda ma mette la parola fine a una saga durata 14 anni 5 di carcere chiuso nell'ambasciata dell'Equador a Londra un esilio per evitare l'estradizione negli Stati Uniti ma anche in Svezia per le accuse di stupro inchiesta poi archiviata Washington da anni aspetta di processare il 52enne giornalista accusato di aver diffuso circa 7.000 documenti secretati relativi alle guerre in Afghanistan e Iraq ricevuti dalla ex militare Chelsea Manning in cui svelò alcuni crimini di guerra degli Stati Uniti fra cui il famoso video in cui un elicottero a Pash spara e uccide due giornalisti e diversi civili iracheni in una strada di Baghdad secondo l'accusa quelle rivelazioni oltre a danneggiare la politica americana costarono la vita ad alcune fonti citate dai documenti su Assange si è detto di tutto uomo dalle mille ombre manovrato dai russi che avrebbe ottenuto le informazioni in maniera non limpida tutte accuse per cui mai ebbe un processo per lui e la sua liberazione nel nome della libertà di stampa nacque un movimento planetario a cui oggi la moglie nonché avvocato si è rivolta le parole non possono esprimere la nostra immensa gratitudine a voi che vi siete mobilitati per anni e anni per far sì che questo diventasse realtà e tutto questo a pochi mesi dalle elezioni americane c'è già chi sostiene che si tratti di una mossa politica di Joe Biden a caccia di consensi che traballano l'ultima notizia arriva ancora dal fronte della guerra d'Ucraina la Russia ha annunciato di aver scambiato 90 prigionieri di guerra con l'Ucraina in una intesa che è stata mediata nella trattativa dagli Emirati Arabi questa è l'ultima notizia Gruber ci vediamo domani sera buonasera